anche nonostante sia il momento di crisi e sul piano mercato un investimento di circa un milione di euro da qui al 2013. Questo è importante perché sono somme che vanno nella direzione che ho detto prima, cioè creare dei borghi, dei borghi mercatali, multiculturali, multietnici, quindi valorizzare anche i prodotti tipici. Tra l'altro il mercato è importante in un momento di crisi perché le persone che non si possono permettere magari di andare in un negozio potranno andare anche nel mercato e comunque c'è una diversificazione di prodotti e non si crea un conflitto perché una cosa è l'artigianato locale che noi valorizziamo, una cosa sono il commercio che si fa ogni giorno, una cosa sono le aree mercatali, ad esempio quella che è l'immagine degli anni passati dove si vedeva un contrasto, anche un conflitto tra chi vendeva l'attività presepiale originaria e chi faceva un'attività mercatale fuori quel negozio non ci sarà più, ci sarà un'area mercatale dove le persone che prima vendevano nei vicoli venderanno i loro prodotti e ci saranno coloro nei negozi che fanno artigianato da tanti anni che lo potranno fare come l'hanno sempre pensato di fare. Occasioni per tutti, occasioni per chi ha già una licenza e vuole un posto dove poter operare regolarmente, occasioni per i giovani con i corner, giovani artisti, dove sarà sufficiente fare la domanda, sufficiente, anzi necessario essere giovani, cioè il 18enne più 18enne sceglierà il miglior posto in città, però una condizione che deve vendere esclusivamente prodotti del proprio ingegno e quindi anche un modo per rivalutare il saper fare, la manualità che è tanto importante. Un'iniziativa importante che valorizza una città tra le più giovani d'Italia ma anche una città più consapevole del profilo multiculturale. Un bando pubblicato in ben otto lingue ne sottolinea tutto il valore. Parliamo ai turisti che vengono in questa città e che amano le bancarelle di questa città ma parliamo anche alle tante comunità migranti a cui offriamo l'opportunità di uscire da un'attività economica irregolare che molto spesso produce anche contiguità con attività assolutamente illegali. Ci stiamo attrezzando quindi per essere una città più accogliente, una città più solidale, una città che promuove il turismo ma una città che decide anche di organizzarsi per poter essere meno tollerante.